A pochi giorni dall'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, l'Università di Salerno ha presentato il bilancio unico 2014 in contabilità economico-patrimoniale, così come previsto dalla riforma Germini, anticipandone anche i tempi. La normativa infatti prevedeva che questo dovesse scattare a partire dal 2015. L'Università salernitana invece, già nel 2013, ha adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale e nel 2014 il bilancio unico d'Ateneo. A presentarlo personalmente a Salerno il rettore Aurelio Tommasetti, che ha mostrato pagina per pagina i risultati conseguiti e tutti i dati contenuti nel documento, dal bilancio di previsione al fondo ordinario, che ha visto una crescita di 4,7 milioni di euro, diciottesimo su 57 Atene pubblici, secondo tra i grandi Atenei, la crescita maggiore tra le Università campane. Una situazione che dovrebbe premiare l'Università anche per l'assunzione di nuovo personale, come previsto dal decreto distribuzione punti organico del 22 dicembre scorso, con un turnover del 64%, il più alto in regione. Il bilancio unico inoltre consente una visione generale di tutte le attività dell'Ateleo e fornisce la percezione compiuta del volume di iniziative messe in campo dall'amministrazione centrale e dai dipartimenti. Noi abbiamo avuto un riconoscimento importantissimo a metà anno, dal Sole 24 ore, che ci ha premiato come prima Università del Sud. E poi, in quella coerenza che c'è sempre quando si sceglie la Stata della meritocrazia, il Ministro Giannini a distribuire le risorse si è rimpegnato a farlo su base meritocratica e sulla base anche dei costi standard. De Stavano è stata premiata perché la nostra Università è stata riconosciuta un più 4,7% nei fondi di funzionamento ordinario, che sono i trasferimenti da parte dello Stato. C'è 4,7 milioni in più rispetto all'anno scorso. Dopo 5 anni di tagli torna il segno più. E questo è un dato significativo, quindi un merito al Ministro e al Governo per aver scelto questo tipo di strada. Un merito a Salerno che evidentemente sta perseguendo questa scelta della qualificazione, della ricerca e della didattica come elementi fondanti della nostra azione di promozione delle nostre attività.